La Stardom tornerà live su Stardom World sabato 11 maggio e lo farà con una card alquanto importante, sì perché avremo ben 6 match tutti da vivere che in alcuni casi porteranno avanti le storyline principali nato attualmente nella compagnia. Bando alle ciance dunque andiamo a scoprire insieme la card ufficiale dello show che andrà in onda da Ciba. Come avete potuto notare voi stessi, i match che ci attendono promettono di regalare grande spettacolo su tutti lo scontro tra Cosmic Angels e Gozai che andrà a dipingere un altro quadro della rivalità tra Amisorei e Esaoriano, rivalità che sfocerà in un match valevole per la White Belt a Stardom Fresh in Champions 2024, per per più che andrà in onda sabato 18 maggio. Un'altra battaglia interessante senza ombra di dubbio è quella tra Oedo Tai e Stars con Mayu Watani e Anan che faranno squadra con una lottatrice d'eccezione Starlike Kid che da quando è stata espulsa da Oedo Tai sta facendo fatica a integrarsi in altre realtà, finendo spesso e volentieri con le spalle al tappeto. Sarà curioso dunque scoprire se SLK sarà in grado di collaborare con Stars. Non possiamo poi ovviamente non menzionare anche il late women's tag team match tra Stars e Queen's Quest, preludo della battaglia che ci attenderà domenica 12 maggio tra Fukuoka, Double Crazy e O2 Line, battaglia che sarà valevole per i Goddess of Stardom Championship, ma di questo parleremo più approfonditamente nel prossimo video che uscirà qua sul canale sabato 11 maggio. Per concludere è d'obbligo tenere d'occhio anche il tag team match tra Mina Shirakawa e Emaika vs Sayaka Kurara e Aya Sakura. Un match da risultato alquanto scontato direi quello è vero, ma è una battaglia però che potrà regalare a Cosmic Angels la possibilità di mettersi in mostra contro due avversari di un livello molto superiore, in modo da prendere ancora di più da due veterane del ring, quali Mina Shirakawa e Emaika, nonché permetterà a Empress e Nexus Venus di aumentare la loro alchimia sul ring, provando nuove offensive e così via. Sarà dunque una bella prova ciò che aspetta entrambi i team che potranno usare questo match per migliorare in generale. Dunque lo show che ci attende sabato 11 maggio e che ancora una volta vi ricordo andrà in onda da Chiba e sarà visibile live su Stardom World promette di regalarci un ottimo spettacolo. Ora però parola a voi, fatemi sapere qua sotto nei commenti quale match attendete di più e se guardate lo show in diretta su Stardom World o se lo recupererete in differita nei giorni successivi. Prima di salutarvi vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto incentrato sul wrestling femminile mondiale. Sul sito web di Donne tra le corde così come su Instagram troverete tantissimi articoli sulle vostre atlete preferite, rumors, news e quant'altro il mondo del wrestling femminile abbia da offrire. Inoltre sempre in descrizione trovate anche tutti i miei social per restare in contatto con me e anche tutti i link per seguire la Stardom come più vi aggrada. Dal vostro amichevole chirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore a tutti voi per il supporto che date a me e al mio canale. See you next time! Bye bye!